Via Oh 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 Lo campionerei, è fenomenale Oh che dice che dà fungre perché ci sono qua? va bene a ma che ciò ne faccio a quelque part che ci sono trick C'è lei Skrillex? Ehm Skrillex Eh ma non lo so faremo Meno cantato Meno cantato dai Scary Monster tipo Che era Scary Monster? Vabbè è qualcosa che c'è già pronto Se no... Ehm